benvenuti a questa nuova puntata all'interno dei sentimenti tentationali I know the UI UI che sto cazzo di copyright che devo fare io la sigla come vi chiamate? mi chiamo da solo boh sono un ragazzo semplice che gli piace proprio la vita semplice sono una ragazza comunque alla mano no t'ha chiesto come ti chiami no mi chiamo Chanel e niente nella vita mi piace divertirmi un sacco e qualche volta stare con lui quando mi annoio sto con lui che lavoro fate? boh io prendo il reddito di cittadinanza e io faccio la PR al cacao anche se adesso ha chiuso vabbè c'è proprio la collante di Mario quanto state insieme e cosa vi aspettate da Tentation Island? due anni e due anni sono ma ma non sono sette oh ma perché tu pensi a no no è perché c'è stato Gianfranco Paolo Francesco Simone Franco Giulio Giulio ma pure Giulio e pure tuo cugino amore pure mio cugino beh va bene e poi da Tentation Island mi aspetto cioè innanzitutto di aumentare i follower su Instagram questo profilo proprio piange perché vedo tanti che fanno cioè fanno proprio un lavoro venga non fanno proprio niente e lavorano e li pagano cioè quindi boh e io invece mi piace i manchi I know the why you why I'm the bad guy yeah minchia vi vedo troppo bene insieme madonna un secondo che lo conosco già mi sembra di conoscerlo da una vita tra l'altro pare pure intelligente minchia trenta secondi e già mi manca troppo in dieci edizioni di Tentation Island non è mai successo una cosa segna come? ho già un video per te ma come di già? ma sono bastati trenta secondi guardiamolo insieme qua non ci vede nessuna ma che cazzo fa? cioè che poi a me sale il crimine guarda qua ma co ma già ma puoi? eh ma non è tutto non è tutto come non è tutto? c'è un altro video per questo guarda ma guarda sta Iona guarda qua 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 ma li spacco li spacco ti sembra normale te lo chiedo io a te se è normale sta cosa ma scu 30 secondi ci finisci qui inizia qua voglio il confronto confronto immediato no stasera quando stasera non posso e allora adesso adesso mai più ancora hai finito pure tu mamma mia per esempio la ferragne non usa lo smalto però secondo me tu staresti bene con un color ocra ocra dici proviamo chanel c'è il presentatore chanel hai capito il presentatore il tuo uomo ha richiesto un confronto immediato adesso andiamo ma sto facendo la manicure e non posso capisci che ci devo parlare perché troppo pesante sta cosa hai capito si ma tu erai lì sempre c'hai ragione c'hai ragione vediamo se accettato perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare la musica la playa l'estate siamo qua stai tranquillo si risolverà tutto ciao presentatore ma vedi venire qua e stare muta va e tu vedi andartene presentatore mamma mia ho visto con jared francis ho il presentatore perché pure il presentatore guarda chanel stai muta perché adesso tu mi costringi andarlo a prendere a casa con tutti i miei amici di balletta e barriera c'è proprio a mano aperta bam tutto il tempo così l'hai visto no quello lì l'hai visto che ti tira una manata che il muro te ne tira un'altra così forte così è perché non li hai visti i pettorali mamma me li sogno ancora la notte poi io non lo sapevo cioè quello fa panca tu cosa fai io pancia 15 kg in un anno e lui sta muto perché non lo sa fare chanel ma basta piangere che lo sai che mi fai schifo quando piangi sei proprio butto sei proprio butto comunque ti perdono ti perdoni si è difficile ci proverò ma ti perdono io ho fatto così perché volevo metterti alla prova mi piace quando sei geloso è vero che ci tengo ma lo so che sei generosa presentatore usciamo insieme però tra due tre settimane che c'è francese che mi deve parlare c'è dei problemi ma lo so che tu ascolti un cuore nobile è vero è vero che sono a me così tutti abbranzi due o tre settimane bronzo che questo non ero come quando andiamo a prendere il sole ai murati umani e anche stavolta il viaggio nei sentimenti è servito chanel e il tamarro sono tornati insieme alla prossima puntata